Ciao ragazzi, oggi sono qui con una novità assoluta per chi non vuole essere omologato, per chi non vuole essere uguale agli altri, per chi vuole distinguersi dalla massa, è arrivata SayUnique, un'azienda che ha creato delle scarpe per chi vuole essere anticonformista e per chi vuole indossare il Made in Italy, un prodotto di qualità creato artigianalmente e unico nel suo genere. Siete pronti a scoprirlo insieme a me? La filosofia di questa azienda è appunto distinguersi e farci distinguere dalla massa e ha creato delle scarpe spettacolari ma che si indossano spaiate, guardate un po'. Siamo da quella neutra, praticamente una è la sinistra, può essere nera, blu e anche gli altri colori, andate sul sito e troverete appunto la scelta. Ha la scarpa una sneakers in pelle, morbidissima, cuciture interne, diciamo che è accurata nei minimi particolari e fatta praticamente a mano, con prodotti di altissima qualità, ok? Questa è quella nera, trovate altri colori, naturalmente altri modelli. Ma il prodotto vero e proprio, cioè il prodotto di punta è la Reddy, come la chiamano loro, quella rossa. Infatti la scarpa destra è sempre disclusivamente rossa, non ne trovate di altri colori, solo rossa e sapete che la scarpa rossa ha anche un significato molto particolare. Allora, la particolarità anche di questa scarpa è che hanno creato degli occhielli in questa maniera più piccolini, dove possiamo personalizzarla attaccandoci un charms che a noi ci piace. La scarpa è numerata e prodotta praticamente in numero limitato, ci sono quindi delle scarpe che solo voi possedete e con questo numero, se volete e farete l'acquisto, naturalmente vi lascio tutti i link del caso, potete avere un regalo molto speciale. La cosa carina è anche il calzino spaiato, adesso lo abbinerò, vediamo un po', insomma vediamo cosa faccio. Comunque sono meravigliose. Una cosa molto carina è che negli occhielli che hanno creato appositamente, vedete, uno, due, tre, quattro sono più piccoli, ci sono per attaccare un charms e quindi personalizzare la vostra scarpa ancora di più, ma non sono stupende? Ve le faccio vedere quando ce le indossate, spettacolo! Quindi che dire, eccola qua! Scegliete il Made in Italy, promuoviamo il Made in Italy e cerchiamo aziende come queste che ci rendano uniche e speciali. Felice io! Ciao a tutti!